Salve a tutti ragazzi da Pierluigi nel canale PierDarkNight91 e benvenuti nella seconda puntata su FIVA20 nella modalità carriera allenatore con il nostro Valencia. Nella prima puntata abbiamo fatto già alcuni test sul campo, abbiamo incominciato il nostro tour precampionato in Germania, abbiamo affrontato la Lazio e abbiamo perso 2-1 in una partita rocambolesca dove meritavamo minimo il pareggio. Quest'oggi affronteremo le ultime due partite della fase Gironi, quindi affronteremo il Napoli e il Bayer Leverkusen nella scorsa puntata, ovvero nella prima puntata abbiamo anche fatto il nostro primo acquisto con lo scambio di Piccini, ci siamo portati a casa Hector Bellerin. Quest'oggi ci concentreremo sull'acquisto di alcuni centrocampisti per cercare di completare al 100% la nostra formazione al centrocampo. Mi raccomando ragazzi lasciate tanti bei pollici in su, condividete e commentate il link in descrizione per acquistare le magliette del vero pipistrello adesso. Diamoci una mossa! Allora signori quest'oggi voglio andare sul sicuro e cercheremo di acquistare due centrocampisti che conosco nella realtà, due giovani centrocampisti che secondo me in futuro diventeranno dei top player. Ma nel frattempo, che completiamo il centrocampo, ho già messo ad osservare altri giocatori giovani che potrebbero rivelarsi talentuosi, quindi oggi completiamo questa zona del campo, ovvero il centrocampo per il futuro. Il primo giocatore che sarà molto importante per il futuro del Valencia è questo giocatore dell'arsenal francese, Matteo Genduzzi. Centrocampista centrale, centrocampista difensivo centrale, 1,85m, 68kg. La sua abilità speciale è il passaggio lungo. Signori, andiamo in sede e vediamo di portarcelo a casa. Andiamo! Matteo Genduzzi, signori. Ricordatevi questo nome, Matteo Genduzzi. Signori, ancora una volta ci troviamo con Emery. Alla fine l'arsenal ha davvero parecchi giocatori importanti. Adesso dobbiamo solo capire e dobbiamo cercare di trovare un accordo con il mister dell'arsenal. Vediamo un po' di proporre qualcosa di speciale. Allora, signori, questo giocatore, se non ricordo male, è approdato all'arsenal per 8-9 milioni. Quindi penso che su questo titolo Genduzzi vale intorno ai 10-12 milioni. Secondo me, ragazzi. Quindi l'offerta del cartellino sarà 10 milioni, ok? Va bene. 13 milioni e 400 più la clausola per la rivendita del 20%. Allora, c'è da togliere ovviamente la clausola e da abbassare leggermente il prezzo. Facciamo un bel 12 milioni e stiamo a posto. Signori, avanziamo l'offerta. 17 milioni e 100 hanno alzato il prezzo togliendo la clausola per la rivendita. Neh, facciamo un 14 milioni e pace fatta, ok? Dai Emery. Ok, affare fatto 14 milioni per Matteo Genduzzi, ma attenzione perché non ce ne pentiremo. Eccoci qua in sede, è arrivato Matteo Genduzzi insieme al suo procuratore. Adesso incominciamo a parlare un po' dello stipendio che non sappiamo. Quindi attenzione. Allora, Matteo Genduzzi potrebbe essere una promessa? Proviamoci, ma secondo me è più turnover, eh? Non ci siamo. Sporadico. Cioè, giocare pochissime partite, così. Qualche partita. Era meglio promessa. Vabbè. Ci chiede 4 anni di contratto. Io andrei a fare una controfferta di 5 anni, così almeno per 5 anni non dobbiamo rinnovare. Fare il contratto ed accettato, signori. Matteo accettato. Nessuna clausola per la rivendita e attenzione perché ci offre, anzi ci propone già il contratto che vorrebbe nel Valencia. 28.500 di stipendio settimanale, più un bonus di ingaggio da 270.000. 10 presenze e 280.000. Controfferta. Rimuovi bonus. Se magari il pad funzionasse. Ok, molto bene. Bonus per l'ingaggio. Ci sta, eh. Alla fine non mi dispiace neanche come bonus ingaggio. Facciamo 150.000 con uno stipendio da 28.500. Dai, avanziamo. Vogliamo tutti che la trattativa vada a buon fine, quindi hanno alzato il prezzo dello stipendio più il bonus ingaggio. 200.000 di bonus ingaggio. Facciamo un bel 200.000 di bonus ingaggio più uno stipendio da... Va bene. 30.500. Dai. Sono disposti a chiudere la trattativa se accettiamo di pagare 30.000 a settimana più 260.000 di bonus ingaggio. Accetto, dai. Accetto. Sì, sì. Voglio accettare perché questo giocatore ci farà divertire, ragazzi. Sarà il nostro nuovo beniamino, secondo me, eh. Quindi, accettiamo. E Matteo Genduzi è il nostro secondo acquisto da quando siamo arrivati nel Valencia. Matteo Genduzi. I am Matteo Genduzi. Eh, ragazzi, signori, signori. Già 76 di overall. Vediamo un po' il confronto mentale-fisico. Eh, deve migliorare un po' su tutto, ma secondo me è questo qui. 79 di resistenza. Questo giocatore è molto importante per farlo giocare 70-80 minuti già, eh. Quindi, molto bene. Dobbiamo solo scegliere il numero di maglia. Allora, signori. Matteo Genduzi attualmente ha il numero 21 di maglia. E non mi dispiace neanche. Però io, se non ricordo male, nell'Arsenal ha la numero 29. Che potrebbe essere comunque anche un buon numero di maglia. Ma sì, dai. La 29 per Genduzi. 29 a 21. 29, dai. Volete sapere il nuovo centrocampista che andremo ad acquistare in questa puntata? Beh, dopo la partita contro il Napoli. La prima partita del Napoli è stata molto importante. Ha vinto in questo tour contro il Leverkusen. Noi abbiamo perso. Saremo costretti a vincere. Andremo a fare qualche cambio. Testeremo altri giocatori. Andiamo a fare la formazione. Siamo un allenatore italiano che debutta con il Valencia contro la Lazio e contro il Napoli. Davvero un qualcosa di incredibile. Signori, iniziamo questa partita. E c'è Coulibaly. Allora, c'è qualche piccolissimo cambio nel Napoli. Vediamo insieme. Carnezi si importa. 4-4-2. C'è Milik e Mertens. Quindi metteranno alla prova la nostra difesa. Molto bene. Andiamo. Ok. Il Napoli dà il via a questa partita. Secondo match non ufficiale per Pierluigi Annecchino. Vediamo un po' come andrà a finire. Abbiamo subito rubato il pallone. Incominciamo a far girare il pallone. Dai. Bellissimo, Rodrigo. Vai così. Guarda Condobbia. Subito, attenzione. Condobbia a palo. È rigore. È rigore. 2 minuti e 50. Fallo di Coulibaly. Non viene ammonito. Ma calcio di rigore. Bene. Rivediamo il tiro che si stampa sul palo. Ma c'è anche fallo. Sì. Rigore. Ok. Prima volta che batto un calcio di rigore. Ho davvero tanta paura di sbagliare. Quindi proviamoci. Mamma mia, è difficilissimo. Mamma mia, signori. È difficilissimo. Mamma mia, signori. No. No. Calcio di rigore sbagliato da Parejo. Mario Rui. Mertens può andare. Ancora Mertens sulla fascia. Adesso si propone il Napoli. Chiusura ottima del numero 12 di HB. Adesso il pallone in mezzo. Il colpo di testa la butta fuori il Valencia. Attenzione perché si incomincia a far vedere il Napoli. Occhio a Mertens qui. Di Lorenzo Mertens. Di HB ci mette il piede. Niente da fare. Mertens la mette in mezzo. Il colpo di testa alto. Si salva il Valencia. Tocco ancora a Parejo. Tocco ancora a Parejo. Deviazione. Ancora un passaggio parejo. Allo scadere del primo tempo. Si fa perdonare, signori. Si fa perdonare. E ragazzi, questa volta abbiamo concluso molto bene dopo l'errore dagli 11 metri. Per la prima volta ho tirato un calcio di rigore su questo nuovo titolo ed è tutta un'altra cosa. Eccolo qui. Eccola qui la conclusione di Parejo. E bravo. Primo gol di Daniel Parejo nel Valencia di Pierluigi Anecchino. Bene, bene. Già alcune istruzioni le abbiamo cambiate e nel frattempo finisce il primo tempo e la squadra gira già abbastanza bene. Quindi bisogna ancora migliorare alcune cose e saremo già perfetti. O almeno proviamoci anche perché il Napoli gioca con parecchie riserve. Va bene, inizia il secondo tempo e vediamo un po' se riusciamo a raddoppiare. Attenzione perché nel primo match vincevamo 1-0 e poi l'abbiamo persa 2-1 contro la Lazio. Quindi attenzione. Gaiancora con dobbià. Il tocco a Parejo. Parejo salta l'avversario. Attenzione, attenzione. Rischia un secondo calcio di rigore il Napoli. È uscito Mertens ed è entrato Llorente. Adesso ha due torri. Praticamente ha due giocatori fissi nell'area di rigore. Non so se sia stata una scelta ottimale quella del mister Ancelotti però va bene. Ecco il tocco, la deviazione. Gamero ancora fa scattare Hector Beyerin. Può andare Hector. Punta l'uomo. Hector. Pallone in mezzo. Bellissimo il tiro. La deviazione. Si salva in Napoli. Rivediamo il tiro di Soler. E la deviazione miracolosa del difensore. Soler ancora sulla fascia. Non trova nessuno. Rischia quasi di perdere il pallone. Riesce a toccarle. Passaggio lì indietro. Parejo. Il tocco a Gamero. Gamero. La deviazione. Adesso con dubbio. Fuori gioco. Fuori gioco. Che gran bella girata. Ok. Esce Milik ed entra in signe. Adesso sì. Pallone lungo. Attenzione all'Ozzano. L'Ozzano può andare. La mette in mezzo. Colpo di testa. Attenzione. Poteva arrivarci in signe. Che grande occasione qui. E signori arriva adesso il debutto di Genduzzi. È uscito parejo. Lo facciamo un po' riposare. Hector la tiene. Rivede Genduzzi. Attenzione. Perde il pallone. Riparte il Napoli. Adesso Fernando Llorente cerca di far salire la squadra. Il tocco di in signe. Genduzzi insegue in signe. Troppo giovane per inseguire in signe. Ma gli ruba il pallone. Genduzzi. Vai vai. Eccolo qui. Ancora Genduzzi. Genduzzi. Trattenuto. Genduzzi. Salta così. Fernando Llorente. Genduzzi. Ampie falcate. Genduzzi. Poi la dà sulla fascia. Bellissimo. Attenzione. Abbiamo un po' di spazio. La rimettiamo in mezzo. Ma non c'è nessuno da quelle parti. Attenzione. Errore difensivo. Rodrigo Moreno. Maciado. Il tiro. La deviazione. Corner. Un'altra sostituzione. E adesso entra Vass. Ed esce Soler. Vai ragazzi. Calcio d'angolo che batte Genduzzi. Attenzione a questo pallone in mezzo. Attenzione ancora. Vass. Appena entrato. Ha segnato Vass. Nei minuti di recupero. Il Valencia raddoppia. Meritatamente. Finalmente ragazzi. Abbiamo visto. Un gioco che si concretizza. Eccolo qui. Appena entrato. Ha segnato. Daniel Vass. Molto bene. Finisce. Finisce signori. 2 a 0. Del Valencia contro. Un po' di Napoli titolare. Attenzione. Non ci esaltiamo. Perché abbiamo giocato sì con l'attacco titolare del Napoli. Ha fatto anche le sostituzioni. E' entrato Llorente in signe. Ma attenzione perché non erano al completo. Allora. Migliori in campo parejo. Nonostante il rigore sbagliato. Ma attenzione perché Genduzzi ha preso già 7 in pagella. Attenzione perché è una parte molto importante. Fargli prendere un buon voto in pagella per la crescita. Allora. Vediamo insieme questo gruppo A di questo tour. Che si svolge in Germania. Con Valencia. Leverkusen. Lazio. E Napoli. A tre punti. Sì perché la Lazio ha perso 2 a 1 contro il Leverkusen. E quindi ci giocheremo la qualificazione nell'ultima partita. Proprio contro la squadra tedesca. Allora signori. Ultimo acquisto di questa puntata. L'altro centrocampista. Attenzione perché anche lui in futuro sarà sulla bocca di tutti. Anche se lo è già diciamo così. Perché chi segue il calcio sa che diventerà un campione. Signori. E poi parliamo di lui. Tom Davis. Centrocampista centrale. Centrocampista offensivo centrale. Centrocampista difensivo centrale. Età. 21 anni. 1,85. 70 kg. Piede destro. Questo qui. Ha un'aggressività incredibile. Ha una velocità assurda. O più che altro. Riesce a proteggere il pallone con il suo fisico. Che è una cosa incredibile. Ha parecchio dribbling. Ha. Ed è abbastanza diciamo forte anche nei passaggi corti. Non sappiamo l'overall. Non sappiamo il prezzo. Quindi faremo come abbiamo fatto con Gendu C. Andiamo in sede. Allora signori. Siamo qui in sede con l'allenatore dell'Everton. E adesso possiamo fare scambio giocatori. Però secondo me questo giocatore, Tom, vale di più di Gendu C. Secondo me. Comunque scambio giocatori. Vediamo di proporre qualche attaccante che non ci interessa. Esempio sempre lui. Sobrino. Proviamoci. Non possono lasciare a partire Davis o Davis. Decidete voi ragazzi. Hanno bisogno di un difensore centrale o un attaccante. Ho letto bene. E Sobrino che? Vediamo un po'. Ho offerto Jordi Escobar. Giusto per capire il prezzo di Davis. Ma non sono interessati. Vogliono Xavi Ximenez. Però 11 milioni con Ximenez. Non lo so. Ha 22 anni Ximenez. Facciamo uno scambio. Possibile talento contro possibile talento. Contro offerta. E rinegozio offerta per il cartellino. Visto che secondo me diventerà forte. Ma molto forte. Io ti offro 10 milioni più Ximenez. E stiamo pace signori. Anche perché come difensori centrali ho già chi acquistare. Probabilmente. E quindi non entra nel futuro del Valencia sicuramente Ximenez. Anche se potrebbe diventare forte. Ok. 10 milioni. Scambio con Davis e Ximenez. E visto che con questo scambio rimaniamo con 4 difensori. Posso richiamare dal prestito Murillo. E stiamo a posto. Se non acquisteremo altri difensori centrali. Con calma. Perché abbiamo ancora parecchi fondi. Nel frattempo Davis ha rifiutato la promessa. Il ruolo squadra promessa. E vuole il ruolo in squadra sporadico. Va bene. 4 anni di contratto. Contro offerta. 5 anni. Che accetterà sicuramente. Accettato. Accettato. Quindi nessuna clausola recissoria. E adesso signori. Andiamo ad offrire il contratto. Il problema è che non ci dice nulla sullo stipendio. Non ci dice nulla sullo stipendio. E quindi dobbiamo cercare di offrire più o meno. Lo stesso prezzo che abbiamo offerto a Gendusi. Perché più o meno. Secondo me. Quello è il prezzo del. Del contratto. Facciamo 20.000 più 250.000 di bonus ingaggio. Anzi 22.000. Facciamo 22.000. 22 no? 21. 22. Dai. Ok. Almeno non ci ha chiuso la porta in faccia. Vuole 27.000 più un bonus ingaggio da 250. Con bonus presenze. 5 partite. 130.000. No. Rimuoviamo il bonus. Ok. Modifica stipendio e bonus 27. Io ti do. Vabbè. 27 più 250. Dai. Accetta. Non era esattamente la cifra che sperava il mio assistito. Signori. Abbiamo Tom Davis. O Davis. Dov'è? 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 75 di overall. E attenzione perché mi è uscito un messaggio. Hai acquistato un fuoriclasse. Quindi probabilmente ho fatto un ottimo acquisto. 83 di aggressività. Si non è velocissimo. Però riesce a prendere velocità proprio perché. Nelle partite reali eh. Io vi parlo delle partite reali. Questo giocatore riesce a partire in velocità non perché è veloce. Ma perché riesce a proteggere molto il pallone con il suo fisico. E questa cosa mi piace tantissimo di questo giocatore. 80. Passaggio corto. Molto bene. Questo qui crescerà e diventerà fortissimo. E sarà il titolare futuro insieme a Gendusi. Mamma mia. Gendusi e Davis. Ha il numero 26 di maglietta nella sua ex squadra. E quindi per il momento gli hanno piazzato la 21 anche a lui. Quindi vediamo la 26 di chi è. È di Sergio Moreno. Non mi interessa. Va bene. Ok. Diamo la 26 a Tom Davis. E guardate. E guardate. Gendusi. Ottima promessa. Tom Davis. Mostra un ottimo potenziale. Due talenti signori. Abbiamo preso due talenti. Allora ragazzi. Molti di voi nella prima puntata mi hanno scritto. Pier perché hai acquistato solo un osservatore per la primavera? Perché non acquisti più osservatori? Così almeno hai più possibilità di trovare talenti? Sì ragazzi. E quello che farò. Il problema è che bisogna trovare osservatori con 5 stelle esperienza e 5 stelle giudizio. Adesso andiamo a vedere insieme se c'è un secondo osservatore con queste abilità. E vedendo insieme non lo abbiamo. Questo qui greco però gli manca una stella esperienza. Invece questo qui, questo osservatore spagnolo, gli manca una stella giudizio. Per evitare di trovarci poi giocatori che potrebbero diventare talentuosi per alcuni osservatori. Ma non sono abili a capire se diventeranno fortissimi o semplicemente forti. Quindi evitiamo e prendiamo solo osservatori al top. E adesso dopo aver fatto questi due acquisti e nella prossima non è finita qui eh ragazzi. Non è finita qui. Preparatevi. Quindi adesso match importantissimo per qualificarci. Dobbiamo vincere contro il Leverkusen o meglio attenzione perché possiamo anche pareggiare contro il Leverkusen. E stiamo a posto. Ok perché se la Lazio batte il Napoli, il Napoli rimane dietro. Se pareggiano rimango in prima posizione. Ok forse andiamo a fare la formazione. Evitiamo qualsiasi problema e vinciamo. Allora ragazzi ho fatto qualche piccolo cambio per testare anche nuovi giocatori. Il nostro nuovo acquisto giocherà titolare dal primo minuto ovvero Tom Davis. O Davis per cercare di accorciare la pronuncia e renderla più semplice. Anche se correttamente si dice Tom Davis. Detto questo ci sarà Silesen in porta. Gaia, Mangalà, Garai e Bellerin. Sheryshev ovviamente il nostro nuovo acquisto. Parejo e Torres. Quindi prima partita per Ferran Torres. Rodrigo, Moreno, Maggiado e Gomez. Nel secondo tempo possiamo incominciare a utilizzare Lato, la torre o Valleco o entrambi. C'è anche lì. C'è Gendozzi. Quindi stiamo a posto signori. Stiamo messi benissimo. Allora, c'è un particolare che mi è piaciuto parecchio. Il direttore di gara sarà donna, signori. Il direttore di gara donna. Bellissimo, mi piace. Mi piace parecchio. Davvero un'ottima scelta quello di mettere il direttore di gara donna. Vediamo insieme la formazione dell'Everkusen anche se... È una partita che dovremmo vincere. Ok, questa è la formazione 3-4-3. Si può battere facilmente questa squadra con tre difensori. Va bene. Iniziamo noi. Valencia che dà il V a questo match. Qualifichiamoci. Vai. Eccolo. Davis tiene il pallone. Il tocco a Parejo. Parejo subito per Hector Beyeri. Mamma mia che acquisti. Mamma mia che acquisti. Attenzione. Pallone in mezzo. Cross non è male. Attenzione a questo colpo di testa. Ottimo. Attenzione alla girata. La deviazione. Si salva subito il Leverkusen. No, attenzione. Qui parte il Leverkusen. Mamma mia com'è veloce questo. Mamma mia com'è veloce questo. Fuori tempo qui. Hector Beyerin ritorna. Passaggio al centro. Il tiro. Risponde così il Leverkusen. Ma c'è il nostro portiere titolare. Che non pronuncio perché ogni volta lo sbaglio. Dai, 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 Gaia. Subito il tocco. Hector Beyerin. Per il nostro Ferran Torres. Il pallone in mezzo a cercare Rodrigo. Il colpo di testa alto. Bene così. Stiamo giocando bene. Tom Davis. Tocco. Ferran Torres. Bello il passaggio. La teniamo. Ancora lui. Il nostro nuovo acquisto. Davis. Finta cade punizione. Bravo. Bravo signori. Mamma mia. Si è spostato velocemente il pallone. E adesso è un problema signori. E adesso è un problema signori. Perché è la prima volta che batto un calcio di punizione. Non sarà per niente semplice. Attenzione a questo tiro. Uh. Uh. La porta l'ho presa. Però un po' più potente. Bene, dai. Ancora Leverkusen che prova a rispondere. Buona chiusura. Pareco per Davis. Davis. No, vabbè ragazzi. Questi sono acquisti top. Questi sono acquisti top, signori. È già la seconda volta. Mamma mia. Come sposta il pallone velocemente. Vai. Torna, torna, torna. Aiuta. Di a b. No. Libero. Non arriva di poco. Ci siamo salvati. Ok. Leverkusen adesso che prova a rispondere. Pavez. E tocco. Attenzione. Qui. Palla che filtra. La chiusura. Ottima. C'è il nostro Silesen. Qui. Rinvio sbagliato. Temporeggiamo. E poi il tiro. E ha segnato il Leverkusen. Sul rinvio del portiere. Un po' troppo debole. Poi difesa che ha temporeggiato. In modo sbagliato. Boh. Non lo so ragazzi. Non lo so ragazzi. Ma qui almeno il pareggio lo dobbiamo portare a casa. Altrimenti non passiamo il turno. Ok. Siamo sotto. Peccato. Anche se abbiamo fatto come sempre la partita. Davis. Si alza il pallone. Bello il passaggio. Mamma mia ragazzi. Grandi acquisti. Grandi acquisti. Ecco il tocco. Sheryshev. Eccolo qui. Dai che ci arrivi. Sheryshev. Che lentezza. Ferran Torres. Si accentra. Il tocco. Gomez. Attenzione. Qui ancora in mezzo a due. Di tacco. Maxi Gomez. Attenzione. Niente. Cerca di arrivare parejo. Niente da fare. Finisce il primo tempo. Ragazzi abbiamo. Ancora 45 minuti almeno per pareggiarla. Ce la dobbiamo fare. Per il momento passano il turno. Il Leverkusen e il Napoli che sta vincendo. 1-0 contro la Lazio. Attenzione a questo passaggio sbagliato. Dai forza. Davis. Eccolo. Davis. Ancora. Nessuno che avanza. Ecco il tocco. Ma è chiuso. E giochiamo a nascondino signori. E il fulcro del centrocampo è proprio Pavetz. Perché il pallone va sempre verso di lui. Bellarabi. Prova a scattare. Proviamo la chiusura. Gli esterni sono lenti ragazzi. Qualsiasi esterno è lento. È molto lento. Qui serviva. Eh non lo posso dire. Non lo posso dire. Altrimenti c'è spoiler. No. 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 Bellarabi. Nell'area di rigore. Non prendiamo il secondo gol. Altrimenti siamo fuori. Siamo arrivati al sessantesimo. Difesa che scricchio la. Chiusura. E ci salviamo. Ripartiamo in contropiede. Vediamo che ne viene fuori. Rodrigo Moreno. Eccolo qui. No. Si è allungato il pallone. Si è allungato il pallone. Ok. Esce Sheryshev. Prestazione bruttissima. Entra Lee Kanjin. Male. 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 Dobbiamo almeno pareggiarla. Dobbiamo almeno pareggiarla. Signori. Chiusura. Di Mangalà. Colpo di testa. Ripartiamo. Bello il tocco. Niente ragazzi. Ancora un colpo di tacco qui. Mamma mia che giocata qui. Il Leverkusen. Ci salviamo. Ok. Entra Gendusi al posto di Davis. Vai. Vai. Palla che filtra il tiro. Aia. Aia. Calcio d'angolo che batte parejo. Pallone in mezzo. Mangalà. Di testa. Male. Rinvio. Vai. Vai. Tienila. Tienila. Spostala. Ok. Lee Kanjin. Finta. Lee Kanjin. Lee Kanjin. Fuori. Aiaiaiaiaiaiaiai. Dobbiamo prendere immediatamente il pallone signori. Dobbiamo prendere immediatamente il pallone. Siamo arrivati al novantesimo. Chiusura non riuscita. Hector Bellerin. C'è ancora da sistemare qualcosa. Abbiamo fatto un solo errore. Un solo errore. Questi qui hanno vinto 1-0 praticamente. Gendusi. Dai così. Vai così. Dalla sulla fascia. Abbiamo un po' di spazio. Possiamo andare con Valleco. Valleco. Ecco il tocco. Ancora. Un passaggio. Ottimo. Un altro. Valla a pareggiare. Valla a pareggiare. All'ultimo secondo. Lee Kanjin. E basta così. Signori. La pareggiamo. La pareggiamo. Bella azione Lee Kanjin. Eccolo qui. Forse passiamo il turno. Forse. Quindi. Detto questo ragazzi. Adesso ripassiamo. In fase. Difensiva. Ok. Teniamoci questo 1-1. Finisce. Ok. 1-1. Soddisfatto. Perché abbiamo preso un gol. Per un errore. Il rinvio sbagliato. Del nostro portiere. Hanno fatto 2-3 passaggi. E hanno segnato. Unica azione. Una delle pochissime azioni. Dell'Everkusen. Noi abbiamo fatto la partita. Soprattutto nel primo tempo. E meritavamo. Qualcosina di più. 1-1. Diciamo giusto. Ok. Parejo. Sempre. Il giocatore. Migliore. Della partita. Assurdo. Gendusi 6-6. Davis. 6.5. Beh. Nel primo tempo. Ha fatto prendere due ammunizioni. È stato davvero molto bravo. Forse. Nel secondo tempo. Ha sbagliato un po'. E quindi. Il voto è calato. Oh. Che bello signori. Ci siamo qualificati. In seconda posizione. Con gli stessi punti. Dell'Everkusen. Ma. Con un gol. Fatto in più. E 4 gol fatti. 3 subiti. Loro. 4 gol fatti. 4 subiti. Nel gruppo B. Porto. E Lipsia. E quindi. Affronteremo probabilmente. Il porto. Quindi. Porto Valencia. Napoli. Lipsia. Red Bull. Lipsia. Attenzione. Perché qui. Arriva un'offerta. Da parte del Napoli. Per il nostro. Carlos Soler. 24 milioni e 700. Vorrei. Vorrei. Anche perché. Attualmente. Non mi piace. Come giocatore. Però. Secondo me. Cresce. Diventa fortissimo. Quindi. Proprio. Se devo venderlo. Lo devo vendere. A un prezzo altissimo. Perché. Secondo me. Questo qui. Cresce. Diventa forte. Quindi. Sono costretto. A rifiutare. Ok. Ragazzi. Nella prossima puntata. Cercheremo. Di migliorare. Ulteriormente. La formazione. Del nostro. Valencia. Ma. Attenzione. Perché. Andremo a fare. La semifinale. Di questo tour. Contro il Porto. E poi. Probabilmente. Se passeremo. E vinceremo. Contro il Porto. La finale. O contro il Napoli. O contro il Red Bull. Lipsia. Non saranno partite semplici. Incredibilmente. La partita più semplice. Dalla fase a gironi. È stata contro il Napoli. Incredibile. Che secondo me. È la squadra più forte. Del tour. Secondo me. Probabilmente. Comunque. Poi. Pian piano. Incominceremo. A. A partire con. Le varie competizioni. Con il campionato. Eccetera. Eccetera. Ma. Nella prossima puntata. Concluderemo il tour. E faremo. Calcio mercato. Come. Esterni. Al centro campo. Non mi trovo bene. Perché sono abbastanza lenti. Secondo me. Lì serve. Non dico. Un top player. Ma mi serve. Un. Nel frattempo. Che. Lee Kangin. Cresce. Un giocatore più veloce. Che mi dia velocità di manobra. Esiste un giocatore. Lo conosco molto bene. Ma. Non so se acquistarlo. Perché. Dovrebbe costare anche di più. Molto. Vedremo. Ragazzi. Io vi do un bacione. Un abbraccione. Ci vediamo. Nella prossima puntata. Ovvero. La terza. Ciao a tutti. Mi raccomando. Tanti bei pollicioni in su. Mi raccomando. Perché. Che è una puntata straordinaria. Quest'oggi. Vi ho fatto conoscere. Due talenti. Incredibili. Mi raccomando. 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 Grazie a tutti.